ciao ragazzi primo video perché credevo di averne fatti su snow runner che ce l'ha un botto di tempo ma mi sono accorto che non ero fatto quindi una vita che ce l'ho ma proprio ho provato a fare diverse cose allora continuiamo e vediamo un attimo che cosa possiamo fare allora quindi esploriamo la mappa ok aspetta un secondo avvia osservazione bello ah c'è questa cosa che il mud runner non c'è perfetto quindi ok andiamo per una mano cerchio lascia freno mano ok con che cosa si riesce a freno mano r1 no è tutto diverso allora velicello quadrato ok r1 ok allora vediamo un attimo camion deposito tutta la parte di lava esplorata segheria ce l'abbiamo qua ok 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 allora a livello acqua forse non ce l'abbiamo ce n'è uno qui qua c'è una torre di osservazione rotazione navigazione selezione indicatore mappa globale globale ok ok ragazzo velicello collega fermo motore recupera nuovo rimorchio perfetto questo è molto molto più bello ma io per andare qua per ora dovrei ok e qua perfetto quindi è la andiamo un attimo la strada si dovrei andare dritto per dritto di qua allora per quale motivo allora per quale motivo allora l1 quadrato abbiamo quattro lotto motrici allora se andiamo no 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 andiamo dritto per dritto è solo qua allora la benzina in teoria scusami ok salpurante pieno go tempo ok ok allora qui in teoria è un po' altino ok vabbè con la macchinetta ce l'abbiamo qua noi dovevamo venire qui nella pangazza allora aspetta un secondo perché è quella strada qua eccola perché trova il camion ah è quella la missione vabbè ormai sono tornato in dritto orca caspiterina caspiterina ah 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 quindi Allora, proviamo a andare su Credo che bisogna andare su qua Alle rocce, alle rocce Porca loca Allora, vediamo un attimo, si vedi qua E' qui, è qui Ok Perfetto, marchito, andiamo un attimo Perfetto Perfetto Prima raga, qua Come ci andiamo su qui? Il problema è che qua triangolo e andiamo Nella realtà, per agganciare un velicello non è così semplice Perfetto, bisogna uscire Prendere il gancio, tirare la fune Il metallo Uuuuuh No, aspetta, è qui la strada La vera Questa qua è la fangazza, devo passare lo stesso In mezzo a questa fangazza Ah, qui bisogna andare lo stesso Gli diamo una L1, ora se trovi i terreni normali ok qui che dove siamo qua? che sgommiamo dentro il cortile? ok il camion ah era qua il camion? ma sei serio? vabbè stazioni di fornimento, segheria, chevrolet ok dobbiamo andare, quindi la strada è questa qui dritta per dritta, ah beh siamo dritti per dritta praticamente è bello contratti vedete, incarichi i vari camion, le sfide e i troferi, il profilo è questo qua poi una volta fatto il gioco ci sono tutti i vari DLC da comprare che allungano tantissimo la vita di questo gioco, un po' come Euro Truck Simulet perché poi il DLC diventato praticamente tutta Europa è una cosa incredibile porca, sei serio? si è rovinata contatta si è proprio adesso si può riparare la macchina si, tutto sempre, beh, un po' più bassa forse è qua, vediamo un attimo se qua c'è l'officina o se c'è solo il la benza ma se no, c'è solo la benza ma se no, c'è solo la benza ah, c'è solo la benza però aspetta un secondo il camion è la beh, potrei anche andare da qui, eh deposito potenziamento segheria, camion dov'è che mi diceva di riparare il mezzo boh boh buh burca è arrivato Drums ahiii ahiii si allora di qua di là ho sbagliato e di qua e poi di qua e poi madonna c'è qualche ruota qualcosa qui che non va bene credo che non si possa mettere quattro butini mentre si va però adesso si muore ancora di caldo, eh allora vediamo un attimo uff un vattito porca loca vado che vado, vado che vado, vado che vado bello che non ce l'hanno una specie di di ruspa qua queste problematiche un po' più forti ahhh ok 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 ecco qua adesso cosa dobbiamo fare ricostruzione ponte vecchio accettiamo accettiamo contratto infilare il carico ok va bene perfetto allora siamo pronti per partire per il ponte questo camion da spazio per il carico ok ok ho messo il slot materiali ok allora dobbiamo andare praticamente qua ok r2 ok 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 è la fatica ok ok è più forte questo camion non ha 4 minuti dritta come dritta ok vai ok quindi ah è lì ok ok gira 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 ok allora prima mano carica ok chiudiamo e adesso dobbiamo portarlo qui ok quindi r1 vai ok attenzione al palo ok porca devo fare così oh non mi vale così perfetto se non bello portarlo molto preciso difficile se ne può provo oh non se di dove era la scusami dove era la la direzione è qua acqua, acqua, acqua oh ok un ponte qua dobbiamo scaricare amici perfetto ok scarica wow stai facendo progressi con la riparazione ma non abbiamo ancora terminato per completarla devi consegnare un'altra parte del scarico cosa si trova alla segheria porca loca vabbè andiamo alla segheria collega ferma cambia cancella recupera no sto cercando il tasto delle luci no cazzarola scusami camion dovrebbe esserci le luci aspetta andiamo a vedere suggerimenti suggerimenti si va benissimo ultimo qui ci adesso autimo allora già analisi navigazione croco controllo controllo scambia ok aspettate un secondo ok facciamo così perché è bello forte eh l1 più cerchio chi andava a immaginare si le che monta attra ti fai attra 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 ma la segheria la segheria ragazzi è è qua di fianco no in realtà sarebbe meglio andare a sinistra ma qui scusami un attimo eh si è proprio qui qua certo che di notte sarà anche chiusa la segheria di notte o sbaglio ragazzi no faccio di qua no 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 ok allora qui siamo al punto di osservazione e ho sbagliato un casino ragazzi non no 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 ok ah no spazio su di ok ok che cosa stanno dicendo va il marco a portare la linea al ponte che è bravo ragazzi lo sto facendo di notte così poi di giorno può giocare alla playstation ah 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 ha oi 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 riuscendo lo acqua alto e fammi una bella bestialina quando si incroda no è qui era aspetta aspetta è qui è l'entrata no, tiro via tutto ok ma pensa che era qua l'entrata non c'è bisogno di farlo possiamo anche girarci dentro ok ok R1 scarica scarica bella di notte raga ah è proprio un pontazzo di legno si grande potenziamenti ah il resto è il continuo del gioco al prossimo video ciao ragazzi mi ricordo di iscrivervi al mio canale youtube facebook twitter instagram twitter twitter discord e seguirmi su youtube ciao 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 ciao